A Larino proseguono gli interventi per modernizzare la rete idrica per l'approvvigilamento e per la buona gestione delle acque reflue. L'ultimo intervento eseguito lungo la provinciale 73 ha visto la realizzazione di un bypass necessario per intercettare il flusso di reflui provenienti dalla condotta fognaria comunale posta a monte. Anche questo intervento, al pari di numerosi altri eseguiti nei mesi addietro, è stato portato a termine grazie a risorse economiche recuperate dall'amministrazione comunale attraverso una gestione generale attenta insieme ad una decisa azione di recupero dei crediti vantati dal comune di Larino nei confronti dei privati, ha fatto sapere il sindaco Pino Puchetti. A questo si sono poi aggiunte le risorse assegnate dallo Stato e quelle derivanti dalla vendita dei terreni nell'area del piano di insediamenti produttivi. Nell'estate appena passata, a differenza di altri comuni limitrofi, siamo riusciti ad assicurare l'acqua durante tutte le giornate senza particolari affanni. Si registrano ottime notizie anche dal punto di vista dei conti pubblici e cosa non meno importante dell'ambiente, ha detto il primo cittadino. Il lavoro sulla rete idrica è iniziato nel 2018 e portato avanti dall'ufficio tecnico del comune, consentendo con frequenti sostituzioni di vari chilometri di condotte e non con riparazioni occasionali, un risparmio allente di oltre 50.000 euro derivanti nel non dover pagare al Moliseacqua e 300.000 metri cubi di acqua, che negli anni trascorsi venivano persi una volta immessi nella rete del territorio. Il sindaco Pugetti conferma che l'azione dell'amministrazione è tesa sempre a perseguire il bene della comunità e invita i suoi concittadini ad usare sempre con oculatezza le risorse idriche.